L'area della provincia di Frosinone è tra le più inquinate d'Italia. Lo dicono i dati di lega ambiente in base a quelli raccolti dalle centraline al palazzo che monitorano la concentrazione di PM10. Ma queste rilevazioni raccontano realmente il problema? Se io vado a misurare abbastanza vicino alla centralina che è a Frosinone in basso, chiaramente mi aspetto di trovare valori non troppo diversi da quelli della centralina attuale. Chiaramente i valori della centralina nella parte alta di Frosinone sono ben diversi ma lì subentra un altro discorso che riguarda l'altezza dello strato di mescolamento su cui non ho il tempo probabilmente di entrare. Quindi riducendo la mia risposta a una battuta direi che sicuramente il PM10 misurato è un valore che ritengo rappresentativo ma solamente di una metrica, cioè il PM10, quindi non c'è la parte ultrafine, quindi non rappresenta la qualità dell'area e sicuramente non può essere preso come riferimento per quello che riguarda l'esposizione dei cittadini. Come si diceva una situazione è completamente differente per quanto riguarda le polveri ultrafini, spostamenti anche di 5 metri da un lato all'altro dello stesso marcio a piede rappresentano variazioni significative. Sì, sulle ultrafini il discorso è molto più complicato perché la concentrazione dipende molto dalla distanza tra la persona e la sorgente. Le politiche attuate negli ultimi anni con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'area sono utili ma in parte perché ecco come abbiamo più volte ribadito in casa si consuma gran parte della tragedia per la nostra salute. No, ma direi che non sono neanche in parte utili dal mio punto di vista, io non ho mai fatto, quindi non è che lo posso definire con certezza, quella che si chiama un assessment, cioè una stima delle sorgenti sul PM10, cioè perché c'è questo PM10 elevato nella nostra provincia. Ma credo che un grossissimo contributo venga fuori da tutti questi sistemi di biomasse che vengono utilizzati.